Diciamo di voler creare una sessione partendo da materiali che abbiamo precedentemente importato all'interno di After Effects. Allora, la prima cosa da fare è importare i nostri materiali. Qui abbiamo due video di durata e dimensione diverse e aggiungiamo anche un'immagine, giusto per completezza. Trasciniamo tutto all'interno del nostro progetto. Ora, abbiamo trascinato all'interno del nostro progetto, ma non abbiamo una sessione attiva. Per il momento stiamo lavorando con nessuna sessione. A questo punto noi possiamo creare una sessione manualmente, ma possiamo anche generare una sessione sulla base dei file che abbiamo importato. Semplicemente prendendo un file e trascinandolo su quest'icona, noi possiamo creare una sessione che ha esattamente i frame per second e il formato del filmato che abbiamo trascinato. E questa è la nostra sessione. Adesso io faccio Command Z e annullo l'azione. Che cosa succede se vogliamo mettere, però, tutti e tre questi file all'interno della stessa sessione? Io posso selezionarli tutti. In questo caso selezionerò questo video per primo, questo perché questo video ha la risoluzione più bassa tra i due. Dopodiché vado a selezionare l'altro video e per ultima seleziono la foto. L'ordine in cui li seleziono è importante perché usando questo metodo verranno impilati nell'ordine in cui li ho selezionati. Una volta che ho selezionato i file che voglio importare nella sessione, faccio tasto destro, nuova composizione da selezione. Questa è la finestra che mi compare. Ora io potrei creare composizioni multiple, ovvero creare tante composizioni, quanti sono i file che ho selezionato, ma non è quello che voglio, perché io li voglio tutti nella stessa composizione. Quindi composizione singola. Opzioni. Questa è la parte più importante. Usa dimensioni da. Ora io sto scegliendo il primo video. L'ho selezionato per primo apposta, così è già di default impostato, ma potrei selezionare anche il secondo video o anche la foto. Questo serve a fare sì che questo, il video che ho selezionato, sia la matrice da cui vengono ricavati la dimensione della mia sessione e i frame per second. Questo è importante perché io in questo caso ho selezionato il video più piccolo. Infatti questo video è 720p, mentre quest'altro video è o full HD o 4K, comunque è più grande. In questo caso io ho selezionato il video più piccolo. Questo è il modo corretto di lavorare, perché in questo modo io sto rimpicciolendo tutti i file più grandi alla dimensione del mio file più piccolo. In questo modo il mio file avrà la qualità massima possibile, perché se io avessi fatto invece il contrario, ovvero gli avessi dato una dimensione più grande e poi avessi scalato e ingrandito le sorgenti, avrei perso qualità. In questo caso la cosa migliore è lavorare basandosi sulla sorgente di qualità più bassa disponibile. Nel caso vogliate ottenere un prodotto di qualità, la cosa migliore da fare è richiedere le sorgenti in alta qualità, oppure se le girate voi stessi, impostare la vostra camera in modo da produrle in alta qualità. Durata dell'immagine fissa 2 secondi, questo è per quanto riguarda la foto, diciamo 5 secondi, su base 25 frame al secondo. Aggiungi a coda di rendering non lo mettiamo, perché poi noi esporteremo con Adobe Media Encoder, quindi questo non ci interessa. Livelli di sequenza, questo di default vi dovreste trovarlo non spuntato, io lo spunto e gli do anche sovrapposizione. Questo significa che i file che io sto importando non verranno solo importati in una singola sessione, ma saranno anche suddivisi lungo la timeline, non saranno quindi impilati uno sotto l'altro. Sovrapposizione della durata di un secondo significa che non partiranno, cioè il secondo video non partirà esattamente dove finisce il primo, ma avranno un secondo di sovrapposizione. Anche questo è regolabile, io gli do due secondi di sovrapposizione ed è possibile dargli una transizione in questi due secondi. In questo caso è selezionata a dissolvenza incrociata di entrambi i livelli, io potrei disattivarla e quindi di fatto mi mangerei due secondi.